a redi di scena silvescreen vediamo posso aprire? ok oh bello l'orsetto spremiamoli all'osso ah quello della foto provini porno provini porno vai così allora voglio spiare ugualmente posso? no siamo polizotti ma non possiamo fare un cazzo a meno che proprio non ce lo dicano barelle jukebox anche se non credo che il jukebox esistesse negli anni 40 almeno non quel tipo poi boh non lo so andiamo andiamo cioè ci ha portato in qui che è uno sgabuzzino ok esploriamo è una mia c'è un buco nel muro è una mia impressione e controllarla no vero? vabbè ah la testa che avevamo trovato nell'auto giusto? almeno ricordo che ci fosse una testa non mi dire che è rilevante perché non lo è cioè è strano ma ci sono cose vediamo qui c'è un'altra mamma mia cose brutte non so che cazzo sono scimmie esseri umani pillole ok veleno tavolette di drado e questo basta per accusarli tutti no vabbè adesso ce l'avevamo vista no cazzo si per queste teste qui hanno rotto i coglioni allora qui non c'è più nulla qui nemmeno voglio fare un altro giro vediamo c'è altro no chiediamo a questo porco qui cosa da dirci ma se c'è la foto insieme sta mentendo sta mentendo cioè guardate lo sguardo cioè cosa un ricatto cioè non l'ho capito e qui c'è la stanza segreta dove dove cazzo c'è una stanza segreta e non la possiamo aprire cioè com'è questo fatto lo so che non sembra una gran cosa però c'è una porta segreta non so più cosa cercare anche perché da troppo tempo che non giocavo però ci sarà qualche cosa tipo un passaggio segreto per arrivare dall'altro lato di quella maledetta stanza un attimo non c'è un cazzo qui non c'è nulla proviamo da qui cioè dovrebbe esserci una porta che è da sul retro tipo qua e infatti lo sapevo io questo lo violenteremo analmente ok birra appedate proprio allora partiamoci da qui forse vediamo cosa c'è qui è Jessica Hamilton qualcuno ha fottuto il provino Los Diablos non ci interessa questo è anche di Bishop vediamo cosa c'è all'interno Tamburi della giungla ok 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 per ora non ci serve adesso abbiamo molti più in disse quindi questo oggetto di scena sarà finto sicuramente almeno spero qui non c'è nulla può darsi che qualcuna di queste foto sia inerente al caso ma ecco perché c'era quello specchio cioè c'è uno specchio nel bagno una cosa terribile e squalli dallo stato puro ma a noi non interessa ok adesso me lo posso andare a inculare come voglio però voglio controllare sempre è qui che creano queste teste finalmente un attimo perché ok quindi sappiamo da dove vengono le teste e questa è simile a quella che avevamo noi ok la droga invade le strade ok godiamoci il filmatino credo sia lo psicologo non ricordo un cazzo andiamo tutti a cucinare cocaina da qualche parte sì sì sarrette great put it into a big vat so che possiamo water it down a little bit io non 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 funziona in questo modo probabilmente di uccidere ancora più persone ok ascolti vogliamo comprare Il classico coglione Che non so un cazzo di chimica E dice mischiamo tutto E facciamo tipo un minestrone Ah bene Sarà pure un coglione Però ha il potere di Ammassarsi come cani Ma sono dettagli Sperando che adesso il video Non venga troppo lungo Ma che vada Lo taglierò in due parti Sti cazzi Ok Non so se devo tornare ancora indietro Perché c'era un registro Che mi interessava Ok Oggetti di scena Oggetti di scena Voglio vedere se c'è altro Avevo visto il registro E la cosa mi interessava Particolarmente Sparando che mi No per curiosità Adesso io come la chiudo la po' Vabbè lo vedo Niente Non mi dice Assolutamente un cazzo C'è altro qui No Allora Andiamo a interrogare quel coglionazzo Maniaco sessuale e violentatore di minorenni E vediamo se parla Parliamo a questo porco Vediamo cosa ci dice Ubicazione di Bishop McAfee's men are looking for Bishop We need to find him first Any idea where he might have gone to ground If you really tried to kill McAfee's wife My advice to him would be to leave town Voglio esaminare il tacquino Un attimo Allora l'ultima segnalazione No Assecondiamolo Non so che cazzo fa La parola era giusta Mamma mia Abbigliamento proprio da C'è un circo E la polizia Una testata Una testata Mamma mia Proprio La sagra dell'orrido C'è E guardate quello che è il naso Mamma mia C'è una testata C'è anche un piccolo accidente per Hopgood. Questi due ragazzi hanno un po' affinato. Desserti sapere se trovi Bishop. Guy McAfee può essere un personale molto generoso. Spero solo che ti chiedi prima, ragazzi. Questo è un problema di polizia. Abbiamo portato a Mark Bishop in giustizia. Ati che è piuttosto. È un pochino. Non è piuttosto. Ma sono molto più piuttosto, tu sottotitolo. Ok. L'unica razza di che non hai barri sul vostro occhio è perché sei un piccolo frio. E non spendiamo il nostro tempo su un piccolo frio. Stai fuori dal Bishop. E stai fuori dal mio. È chiaro per te? Ora riuscite al tuo boss. Poi potremmo spettarti sul cuore. E direi che buoni ragazzi sei. Capolavoro. Ma comunque. Ma comunque. Ma comunque. No. Perché toglierci l'acqua? Un attimo, un attimo. Ma... Giuro. Cioè volevo terminare il video. Mamma mia in retromarcia come i pro. Vediamo se è famoso. Cioè guardate l'inseguimento più spettacolare di Youtube. In retromarcia. Cioè... C'è un inseguimento in retromarcia. Nelle palle, nelle palle. Non so cosa è successo però. Un inseguimento in retromarcia. Dove cazzo è il nostro? Sala lì che te l'ho sparato al cappello. Si tolga dai coglioni che stai intralciando un palissimo. Dov'è? Non passare, non passare. C'era qualcun altro se non erro. Eppure... Ma non so dove sto andando. Il video sta durando un'eternità. E c'è un porco pacchione che non so dove minchia è andato. Qua c'è la borsetta. Si ma non so dov'è l'altro. Proviamo per il vicoletto. Niente, non lo so. Eh, ma... Qui non posso starci troppo tempo. Lì c'è un'auto. Vediamo se c'è qualcosa. Ok, questo è morto. Si ma non ci sto capendo nulla. Si ma non ci sto capendo nulla. No. Io non capisco dov'è quest'altro. Non so se è un bug o qualcosa del genere. Però... Non sapendo niente. Sali, sali. Non lo capite ragazzi. Se... Avete qualche idea. Perchè? Ah... Ecco dov'erano le scale. Ok. Almeno terminiamo il video con un po' di azione. Oltre che alle solite cazzate. Perchè la polizia. Due ore per arrivare. Siamo morti. Ah... Che palle. Sparando che non debba rifarmi tutto. Altrimenti verrà ovviamente sclero. Ah vabbè. Dovremmo rifarci tutto questo... Ambaradami di dialoghi. Quindi ragazzi. Termino qui questo video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.